Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo video, oggi siamo qui con Lorenzo, Lorenzo e oggi faremo il marshmallow la chubby bunny challenge, la chubby bunny challenge e mi ha fatto venire via apposta per questa questi ora ce ne mettiamo tutti per il culo 1 a 1, no speriamo di no perché ho paura sono gommosi e fanno swish, cominciamo, cominciamo iniziamo subito con la chubby bunny challenge qui abbiamo preparato i tovaglioli, li sto già mangiando, vabbè intanto si fa colazione e qui ho preparato questi osi perché altrimenti li vomiteremo tutti e poi per salvarsi la vita abbiamo preso l'acqua perché sicuramente moriremo 47 volte risponderemo ecco dammela subito ok eccoci qui con la sfida e dobbiamo iniziamo iniziamo io vai 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 iniziamo con il marshmallow sono anche rosa e bianchi quindi sono da finocchi chubby bunny ecco compratelo alla coppa si può dire la coppa si si può dire a San Giovanni a me o ma il testa? chubby bunny 1 a 1 aiuto ciao i banni che vuoi fare ste cose devo stare a casa mia oggi lo bellino lì ciao i banni ciao i banni ciao i banni il dente mi fa male si è già in difficoltà anche io saluto i banni fanno schifo non ce la faccio sono troppo buone fanno cacare sono troppo buone come fanno dopo un po' si sciolgano sono dolci e zucchero filato fanno schifissimo dopo un po' fanno schifo e te li mangia ancora fanno schifo fanno schifo fanno schifo no sono notizia o su or si faceva male anche un dente signori quindi è un pro io mi sono fermato solamente a 4 e non ce l'ho fatta ho trovato un buone ho scoppiato e ridere un po' questo no 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 che cazzo metti un altro voglio il colesterolo e il diabete alto quindi mi drogo con questa roba non ce la faccio con lo schifo è buonissimo un amore se il video vi è piaciuto cliccate like e commentate in descrizione ci vediamo a un prossimo video al prossimo video se riceve abbastanza like o visual forse tornerò io non a casa sua ma in altri video in altri video molto ambigui ha detto quindi no dipende poi magari possiamo ridere un lesterolo a mangiare questi osi che sono troppo buoni quindi potrei essere eliminato quindi bella ragazzi e alla prossima ciao ciao c'è da montare